Sadguru, in quanto studenti stiamo lontani da casa, dal conforto emozionale, familiare. Per quanto riguarda le nostre carriere, usciamo di casa cercando pascoli più verdi. Facendo questo, cerchiamo la compagnia del sesso opposto. Alcune persone iniziano delle relazioni che gradualmente progrediscono nell'intimità fisica. Sadguru, la domanda è, perché come generazione non possiamo parlarne apertamente? O il sesso prematrimoniale è ancora un tabù? Vedi, questa non è una specie di prescrizione. È una necessità individuale. Adesso dobbiamo capire questo. In questa società, gestivamo la sessualità umana così. Prima che una ragazza raggiunga la pubertà, viene menzionato. Questo è il ragazzo che sposerai. All'età di sei o sette anni non si sposano, ma dicono, continuano a dirglielo. Il figlio di tuo zio, questo ragazzo, tu sposerai lui, tu sposerai lui. A lui dicono, sposerai lei. Quindi non si sono visti, non si sono incontrati, non c'è nulla tra loro. Ma emotivamente vengono legati. Prima che si tocchino fisicamente, vogliono che siano emotivamente legati in modo forte. Quindi questa è la tecnica della cultura, come lo affrontavano. Quindi quando diventi o raggiungi la tua pubertà, quando il tuo corpo sboccia in certe possibilità, ora le tue emozioni sono già con qualcuno. Quindi gestisci il tuo corpo, non impazzisci, perché le tue emozioni sono già legate a qualcuno. Quindi quando ha 15-16 anni, la ragazza si sposa. Quando ha 17-18 anni, il ragazzo si sposa. Si dedicano all'agricoltura o al commercio, qualsiasi sia la loro attività. Quindi un aspetto importante della vita dei giovani è sistemato. Una cosa è l'emozione, un'altra cosa è l'esigenza fisica. Entrambe sono risolte in giovane età. E ovviamente a quei tempi i bambini arrivavano entro uno o due anni. Quindi si fidanzavano, si davano da fare e la vita andava avanti, va bene? Oggi le nostre vite sono cambiate. Perché, tempo che finisci gli studi, la maggior parte delle persone hanno almeno 24-25 anni. Dottorato significa 30. Cosa? 35? Non so quanti. Dipende da quanto è gentile il tuo professore. Quindi, diciamo, in media il tempo degli studi è fino ai 25 anni. Tempo che trovano l'impiego e si stabiliscono da qualche parte, con una ragionevole sicurezza economica, 30 anni, giusto? Il picco della funzione ormonale umana è tra i 15 e i 30 anni. Non stai insegnando alla gente qualche forma di vita scetica. Non dai loro qualche sadana affinché trasformino le loro energie in qualche altra possibilità e raggiungano qualcos'altro. Non c'è niente del genere. E c'è stretta vicinanza con il sesso opposto. Se non vuoi affrontarlo, allora creerai una società malsana, molto malsana, che sfortunatamente sta trovando espressioni in modi violenti nella nostra società. Perché non abbiamo affrontato le necessità fondamentali di un essere umano. La prima cosa è il nutrimento. Se ci si è presi cura del nutrimento, devi capire, il nutrimento è sopravvivenza. Una volta che ci si è presi cura della sopravvivenza, naturalmente la specie non è nemmeno individuale. La specie che sei desidera riprodursi. È costituita così. Desidera riprodursi perché è la sopravvivenza della specie. Se le persone non si riproducono, non ci sarà razza umana. Non è così? Quindi il tuo corpo e la tua mente giocano molti scherzi. È come quando guardi qualcuno, improvvisamente pensi che siano i più belli, improvvisamente pensi che siano i più fantastici. Scopriremo dopo. Molte cose. Ma inizialmente tutto è annebbiato. Vedi, ti sto dicendo. Diciamo che hai 10-12 anni. Guardavi le persone, sono abbastanza normali. Improvvisamente arrivi ai 14, ogni piccola protuberanza sul corpo di qualcuno è un mondo a sé. Semplicemente perché i tuoi ormoni iniziano a influenzare tutto. In un certo modo la tua intelligenza viene dirottata dai tuoi ormoni. Ora, questo non va giudicato come buono o cattivo. È un processo naturale. Possono esserci alcune persone che andranno oltre. È fantastico per loro se riescono ad andare oltre. Non sono compulsivi al riguardo, sono andati oltre. È fantastico per quella persona. Ma se ti aspetti che l'intera società vada oltre, sei solo uno stupido. Una cosa del genere non accade. Quindi assolutamente il dibattito su quando e come la sessualità dovrebbe accadere deve avvenire. Ma ora abbiamo ancora un certo aspetto culturale in noi e siamo un gruppo emotivo. Siamo ancora un gruppo emotivo. Le persone soffrono immensamente quando le cose accadono senza le emozioni necessarie. Tante persone almeno. Ci possono essere alcune persone che sono al di sopra. Ma tante persone soffrono. Quindi per il nostro paese, per la nostra società, come gestire questo senza causare un importante sconvolgimento nella struttura della società è qualcosa di cui dobbiamo discutere. Devi fare ricerca su questo, su come farlo.